Sì, a me sembra che poco si possa aggiungere alla sintesi efficacissima proposta dal professor Fromel, che studia questo argomento da lunghissimo tempo, avendo approfondito anche le singole unità e le singole parti. Indubbiamente questa immagine che Tafuri aveva preparato, aveva costruito insieme a Salerno e Spezzaferro, di una strada che nasce insieme al progetto dei Tribunali e decade nel momento in cui il progetto del grande Palazzo dei Tribunali viene lasciato incompiuto da Papa Leone X, che non condivide la politica di Giulio II, che non ha la forza o soprattutto non ha il desiderio di imporre la mano del Papa così fortemente sulla città, sulle sue magistrature, sul tessuto urbano, che rimane quindi incompiuto, ancorché raffigurato da tanti altri artisti. Christophe Fromel ha mostrato una pianta di Antonio da Sangallo del Palazzo dei Tribunali, ma c'è per esempio un mirabile rilievo della fabbrica incompiuta di Baldassarre Peruzzi, che parla anche con pathos di questa grande impresa lasciata incompiuta. Una volta caduto questo disegno, la strada è vissuta di un'altra vita, ma di una vita nobile, di una vita residenziale, è stato appena detto, di una vita importante dove la città rinascimentale ha trovato comunque una sua configurazione. Una configurazione che si basa, che si lega a Palazzo Farnese, ai suoi giardini rivolti verso il Tevere, ma si lega soprattutto, secondo me, a un'idea di continuità, di continuità di spazio, di questo spazio rettilineo. C'era stata molti, molti anni fa una polemica molto accesa sulla costruzione dell'Hilton su Montemario, che era divenuto ed è divenuto uno dei fondali di Via Giulia. Da Via Giulia si inquadra perfettamente proprio il volume dell'Hilton, ma se l'Hilton, tanto atturbato in passato, diciamo, chi guardava Via Giulia come appunto uno spazio finito, configurato in maniera stratificata, ma diciamo proprio per questo, perfezionato nel tempo, beh, ancora di più io credo che turberebbe un segno che non avesse la qualità e la capacità che pure aveva avuto Maurizio Sacripanti nel proporre il suo Museo della Scienza. Ricorderete quel progetto, era un progetto che portava di colpo un linguaggio totalmente diverso, una dissonanza all'interno di quel tessuto, ma è un progetto che non credo si possa più realizzare in assenza del suo autore, in tempi diversi. Io devo dire che da parte mia la cosa che vorrei prima di tutto garantita è questo senso di continuità della quinta edilizia che Via Giulia, diciamo, che ha caratterizzato, che caratterizza Via Giulia e che è stata violentemente interrotta e mai più risarcita. Anche la facciata della Chiesa che è nata per essere, la Chiesa di San Paolino alla Regola, che è nata per essere immersa, diciamo, in una continuità, oggi è zoppa. Oggi, e non credo che un progetto contemporaneo, per quanto attento, possa in qualche modo restituire quella continuità, se non ponendosi all'interno con altro linguaggio, ma non lungo Via Giulia. Io per questo non ho sempre condiviso le proposte di Paolo Marconi sul rifacimento di facciate o meglio di tessuti, ma qui si tratta innanzitutto di dare continuità a quelli che sono le pareti che delimitano e qualificano Via Giulia e ciò che si è stratificato su questo progetto che, come abbiamo sentito, ha una storia lunga. Ecco perché penso che più che cercare nuovi progetti bisognerebbe immaginare una conservazione e una ricostituzione del fronte su Via Giulia e poi, naturalmente, discutere su quelle che sono le funzioni che devono dare vita, una vita nuova e, diciamo, legata al presente, a ciò che è dietro questa facciata che si potrebbe ricostituire, naturalmente deve essere collocato. Chiederei al professor Franco Purini di venire al tavolo.